Mi chiamo Pierfrancesco Pierucci e per me la sostenibilità è responsabilità. Per questo ho scelto il tessuto Farfalla prodotto da Maglificio Alto Milanese e realizzato tramite il filato Amni sull'Eco che ha come principale caratteristica la biodegradazione. Ho realizzato un pantalone da uomo perché ritenevo fosse il capo più adatto al mio craft perché grazie alla tecnologia a maglia circolare a doppia frontura mi ha permesso di ripingere sul lato liscio del tessuto. L'importanza del progetto Future Lab promosso da Fulgar in collaborazione con Naba mi ha permesso di conoscere nuovi materiali sostenibili e di sperimentare su essi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.